il gatto con gli stivali fiaba di charles perrolt voce narrante di marisa vacca un mugnaio morendo non lasciò altri beni ai suoi tre figlioli che aveva se non il suo mulino il suo asilo e il suo gatto così le divisioni furono presto fatte il maggiore ebbe il mulino il secondo l'asino e il minore dei fratelli ebbe solamente il gatto quest'ultimo non sapeva darsi pace per essergli toccata una parte così meschina i miei fratelli diceva potranno tirarsi avanti onestamente menando vita in comune ma quanto a me quando avrò mangiato il mio gatto e fattomi un manicotto della sua pelle bisognerà che mi rassegni a morire di fame il gatto che sentiva questi discorsi e faceva finta di non intendere gli disse con viso serio e tranquillo non mi date alla disperazione padron mio voi non dovete far altro che trovarmi un sacco e farmi fare un paio di stivali per andare nel bosco e dopo vi farò vedere che nella parte che vi è toccata non siete stato trattato tanto male quanto forse credete sebbene il padrone del gatto non pigliasse queste parole per moneta contante a ogni modo gli aveva visto fare tanti giochi di destrezza nel prendere i topi or col mettersi pensoloni attaccato per i piedi or col fare il morto nascosto dentro la farina che finì con l'avere qualche speranza di trovare in lui un po di aiuto nelle sue miserie appena il gatto ebbe ciò che voleva si infilò bravamente gli stivali e mettendosi il sacco al collo prese le corde con le zampe davanti e se ne andò in una conigliera dove c'erano moltissimi conigli pose dentro al sacco un po di crusca e della cicerbita estraiandosi per terra come se fosse morto aspettò che qualche giovane coniglio venisse a ficcarsi nel sacco per la gola di mangiare la roba che c'era dentro appena si fu sdraiato ebbe subito la grazia eccoti un coniglio giovane d'anni e di giudizio che entrò dentro al sacco e il bravo gatto tirando subito la funicella lo prese e l'uccise senza pietà né misericordia tutto glorioso della preda fatta andò dal re e chiese di parlargli lo fecero salire nei quartieri del re dove entrato che fu fece una gran riverenza al re e gli disse ecco sire un coniglio di coniglier che signor marchese di carabà era il nome che gli era piaciuto di dare al suo padrone mi ha incaricato di presentarvi da parte sua di al tuo padrone rispose il re che lo ringrazio e che mi ha fatto un vero regalo un'altra volta andò a nascondersi fra il grano tenendo sempre il suo sacco aperto e appena ci furono entrate dentro due pernici tirò la corda e le acchiappò tutte e due corse quindi a presentarle al re come aveva fatto per il coniglio di conigliera il re gradì moltissimo anche le due pernici e gli fece dare la mancia il gatto in questo modo continuò per due o tre mesi a portare di tanto in tanto ai re la selvaggina della caccia del suo padrone un giorno avendo saputo che il re doveva recarsi a passeggiare lungo la riva del fiume insieme alla sua figlia la più bella principessa del mondo disse al suo padrone se date retta a un mio consiglio la vostra fortuna è fatta voi dovete andare a bagnarvi nel fiume e precisamente nel posto che vi dirò io quanto il resto lasciate fare a me il marchese di carabà fece tutto quello che gli consigliò il suo gatto senza sapere a che cosa gli avrebbe potuto giovare mentre egli si bagnava il re passò di là e il gatto si mise a gridare con quanta voce aveva in gola aiuto aiuto affoga il marchese di carabà a queste grida il re mise il capo fuori dallo sportello della carrozza e riconosciuto il gatto che tante volte gli aveva portato la selvaggina ordinò alle guardie che corressero subito in aiuto del marchese di carabà intanto che tiravano su fuori dell'acqua il povero marchese il gatto avvicinandosi alla carrozza raccontò al re che mentre il suo padrone si bagnava i ladri erano venuti a portargli via i suoi vestiti sebbene avesse gridato al ladro con tutta la forza dei polmoni il furbo gatto aveva nascosto i panni sotto un pietrone il re diede ordine subito agli ufficiali della guardaroba di andare a prendere uno dei più sfarzosi vestiari per il marchese di carabà il re gli usò mille carezze e siccome l'abito che gli avevano portato in quel momento faceva spiccare i pregi della sua persona perché era bello e benissimo fatto la principessa lo trovò simpatico e di suo genio e bastarono poche occhiate del marchese di carabà molto rispettose ma abbastanza tenere perché ella ne rimanesse innamorata cotta vole il re che salisse nella sua carrozza e facesse la passeggiata con essi il gatto contentissimo di vedere che il suo disegno cominciava a pigliare colore savviò avanti e avendo incontrato dei contadini che segavano disse loro buona gente che segate il fieno se non dite al re che il prato segato da voi appartiene al marchese di carabà sarete tutti affettati fini fini come carne da far polpette il re infatti domandò ai segatori di chi fosse il prato che segavano è del marchese di carabà dissero tutti a una voce perché la minaccia del gatto li aveva impauriti voi avete dei bei possessi disse il re al marchese di carabà lo vedete da voi sire rispose il marchese questa è una prateria che non c'è anno che non mi dia una raccolta abbondantissima il bravo gatto che faceva sempre da pattistrada incontrò dei miei editori e disse loro buona gente che segate il grano se non direte che tutto questo grano appartiene al signor marchese di carabà sarete stritolati fini fini come carne da far polpette il re che passò pochi minuti dopo volle sapere a chi appartenesse tutto il grano che vedeva è del signor marchese di carabà risposero i miei editori e il re se ne raregrò col marchese il gatto che trottava sempre avanti la carrozza ripeteva sempre le medesime cose a tutti quelli che incontrava lungo la strada e il re rimaneva meravigliato dei grandi possessi del signor marchese di carabà finalmente il gatto arrivò a un bel castello di cui era padrone un orco il più ricco che si fosse mai veduto perché tutte le terre che il re aveva attraversate dipendevano da questo castello il gatto si ingegnò di sapere chi era quest'uomo e che cosa sapesse fare e domandò di potergli parlare dicendo che gli sarebbe parso sconvenienza passare così accosto al suo castello senza rendergli omaggio e riverenza l'orco l'accolse con tutta quella cortesia che può avere un orco e gli offrì da riposarsi mi hanno assicurato disse il gatto che voi avete la virtù di potervi cambiare in ogni specie d'animale e che vi potete per dirne una trasformare in leone e in elefante verissimo rispose l'orco bruscamente e per darvene una prova mi vedrete diventare un leone il gatto fu così spaventato dal vedersi dinanzi agli occhi un leone che si arrampicò subito su per le grondaie ma non senza fatica e pericolo a cagione dei suoi stivali che non erano buoni a nulla per camminare sulle grondaie dei tetti di lì a poco quando il gatto si avvide che l'orco aveva ripresa la sua forma di prima calò a basso e confessò di aver avuto una gran paura mi hanno per di più assicurato disse il gatto ma questa mi pare troppo grossa e non la posso bere che voi avete anche la virtù di prendere la forma dei più piccoli animali come sarebbe a dire di cambiarvi per esempio in un topo o in una talpa ma anche queste sono cose lasciate che ve lo ripeta che mi paiono sogni dell'altro mondo sogni disse l'orco ora vi farò vedere io e nel dir così si cangiò in sorcio e si mise a correre per la stanza ma il gatto lesto come un baleno gli si avventò addosso e lo mangiò intanto il re che passando da quella parte vide il bel castello dell'orco volle entrarvi il gatto che sentì il rumore della carrozza che passava sul ponte elevatoio del castello corse incontro al re e gli disse vostra maestà sia la benvenuta in questo castello del signor marchese di carabà come signor marchese esclamò il re anche questo castello è vostro non c'è nulla di più bello di questo palazzo e delle fabbriche che lo circondano visitiamano all'interno se non vi scomoda il marchese dette la mano alla principessa e seguendo il re che era salito per primo entrarono in una gran sala dove trovarono in bandita una magnifica merenda che l'orco aveva fatta preparare per certi suoi amici che dovevano venire a trovarlo ma che non avevano ardito di entrare nel castello perché sapevano che c'era il re il re contento da non potersi dire delle belle doti del marchese di carabà al pari della sua figlia che ne era pazza e vedendo i grandi possessi che aveva dopo aver vuotato quattro o cinque bicchieri gli disse signor marchese se volete diventare mio genero non sta che a voi il marchese con mille reverenze gradì l'alto onore fatto gli dal re e il giorno dopo sposò la principessa il gatto diventò gran signore e se seguitò a dar la caccia ai topi lo fece unicamente per passatempo godersi in pace una ricca eredità passata di padre in figlio è sempre una bella cosa ma per i giovani l'industria l'abilità e la svegliatezza d'ingegno valgono più d'ogni altra fortuna ereditata da a questo lato la storia del gatto del signor marchese di carabà è molto istruttiva segnatamente per i gatti e per i marchesi di carabà fine della storia